Andrea Barletta e Canosa di Puglia rimandate in trasparenza. Sui siti web istituzionali le città non pubblicano i dati sui beni confiscati. Il dato emerge da un report promosso da Libera. Sentiamo. Sui rispettivi siti internet istituzionali i comuni di Andrea Barletta e Canosa di Puglia non pubblicano informazioni relative ai beni confiscati nel loro territorio. E' il dato che emerge da Rimandati, il primo report nazionale sulla trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali, promosso da Libera in collaborazione con il gruppo Abele e il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino. E' anche il primo appuntamento di una serie di iniziative in occasione dell'anniversario dei 25 anni dall'approvazione della legge 109 del 1996. Andrea Barletta e Canosa di Puglia sono i tre comuni della BAT monitorati perché destinatari di beni immobili confiscati. Non rendendo pubblici dati ed elenchi risultano inadempienti rispetto alle indicazioni normative del codice antimafia. In Puglia sono 98 i comuni monitorati, 42 hanno pubblicato gli elenchi, 56 no. Bisogna e è opportuno che gli amministratori pubblici sentano questo come una priorità. Il riutilizzo sociale è una priorità, sono spazi di democrazia recuperati, sono territori liberati dall'occupazione mafiosa e ridati alla collettività, ma che non possono rimanere solamente simbolo. Devono diventare elementi economici sui territori, ma affinché questo accada bisogna che i cittadini siano messi nella possibilità di fruirne. E questo dipende assolutamente dalle amministrazioni, oltre che chiaramente da una presenza costante di cittadini consapevoli che attraverso il monitoraggio civile, ad esempio, possano sempre di più chiedere trasparenza alle amministrazioni. In generale, il dato italiano dice che su 1.076 comuni, in totale 670 non pubblicano nulla a riguardo. Ciò significa che ben il 62% di questi è inadempiente. Il primato negativo spetta al sud Italia. A livello regionale, tra le più virtuose, ci sono Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio. Il monitoraggio ha avuto inizio nel mese di maggio 2020 e si è chiuso il 31 ottobre. Il report di Libera vuole accendere una luce sulla carente trasparenza in materia. In realtà sono proprio i comuni ad avere la responsabilità di promuovere il riutilizzo dei patrimoni. La base di partenza del monitoraggio, spiegano i promotori del report, coincide con il totale dei comuni italiani al cui patrimonio sono stati destinati i beni immobili confiscati alle mafie per finalità istituzionali o per scopi sociali. La ricerca ha evidenziato come la logica degli open data sia ancora estranea alla maggioranza degli enti monitorati.